bentornati amici qui su mai dire dieta la cucina che intenta o prova di aiutarti non soltanto avere ricette gustose ma sane e anche imparare lungo il percorso e capire che cosa fa il cibo per il nostro corpo e per fare questo viaggio un sacco di amici che vengono a trovarmi nella mia cucina ed oggi c'è gaudenzio calabrese ciao gaudi ciao ciao a tutti io volevo far vedere ai nostri amici uno piatto che io faccio in un battibaleno come si dice però è molto veloce ed è anche molto nutritivo specialmente quando non ho un tempo per cucinarmi e sei pronto prontissimo allora ti piace il pesce si ti piacciono i ceci si piace rosomirino assolutamente allora andiamo a fare il baccalà al cocco con i ceci in purè andiamo a vederli insieme per questa ricetta ti servirà filetti di baccalà circa 500 grammi una scatola di ceci due patate novelle taglio medio un ramoscello di rosmarino cipollotto fresco e latte di cocco allora rientriamo e ti faccio vedere è molto semplice perché useremo il latte di cocco ok per cuocere il pesce ma dai eh sì sì perché la cosa è quando non hai tanto tempo semplicemente prende il nostro pesce e io adoro il baccalà per la consistenza e questa è una cosa che possiamo anche cuocere magari come un pranzo portarla al lavoro con noi e lasciamo me la alzi poco a poco e lasciamo che il baccalà si riprende si riprende onestamente molto velocemente ok ok a me piace insaporire il tutto con la cipollotta fresca ok così prova di togliere la pellicola gillo un piatto molto veloce quindi nel latte di cocco diciamo a un non so che di esotico questa preparazione oppure qualche cosa che hai studiato diciamo tu nelle tue ricerche anche in cucina perché ricordiamo che gill fa ricerche in tutti i campi quelli del benessere la cucina è una di di queste allora tanto tempo fa un cuoco mi ha insegnato di aggiungere la panna di cocco sulla zuppa di pesce e devo dire che da un sapore assai diverso non è troppo invadente è da provare assolutamente ma è veramente ci sono due cose che io adoro con il latte di cocco uno è la cipolla e l'altro è la patata così noi possiamo mettere anche la patata che da un po di cremosità e così facciamo riprendere non è una zuppa perché vedrai che grazie alla patata grazie alle ai ceci diventa una cremina che bello che bello bellissimo e gill vogliamo anche dire o ricordare il quanto è importante introdurre il pesce nella nostra alimentazione che molti magari fanno fatica anche a cucinarlo per la difficoltà invece questa è una ricetta veloce molto semplice allora per quanto mi riguarda il pesce è il più facile da cucinare secondo me i carni le carni sono un po più difficili perché hai veramente bisogno di conoscere il tempo di cottura e la taglia giusta invece il pesce meno lo cuoci meglio è ok però nel frattempo che noi stiamo preparando la nostra pietanza andiamo a scoprire insieme le star di questa ricetta il cece è la terza leguminosa per produzione mondiale dopo la soia e il fagiolo la coltivazione avviene principalmente in india australia e in italia viene consumato principalmente in liguria e in toscana dove i piatti tipici a base di ceci sono la farinata o la panzissa nelle regioni centrali come minestra o le regioni meridionali insieme alla pasta in sicilia ne viene utilizzata la farina per produrre le pannelle l'impasto a base di farine di ceci viene fritto nell'olio i ceci sono nutrienti aumentano il senso di sazietà sono fonti di proteine vegetali hanno poche calorie aiutano a controllare gli zuccheri nel sangue le fibre fanno bene alla digestione proteggono dalla malattia cronica inseribile facilmente nella dieta cipolla normale circolazione del sangue metabolismo dei lipidi funzioni digestive fluidità delle secrezioni bronchiali metabolismo dei carboidrati antiossedante drenaggio dei liquidi corporee avete capito quante proprietà organellettiche nutritive ci stanno in questa ricetta che può essere secondo me un bel pranzo domenicale una cena o altrimenti un passo da portare con noi ma andiamo avanti allora gaudi ti chiedo la gentilezza per favore di pescare le nostre del nostro baccalà dal latte di cocco perché andremo a procedere con la cremina ai ceci perché una volta che abbiamo fatto cuocere il pesce la portiamo a parte e poi la riprenderemo in secondo battuta ecco prende anche questo pezzo qua lasciami le patate che mi servono ripeschi le patate buttami le patate dentro perché tra le patate e i ceci prenderemo una bellissima cremina ok adesso i ceci ovviamente possono stare per più tempo ok lo facciamo riprendere sia le patate che i ceci nel nostro latte di cocco che è stato già insaporito grazie al pesce stesso dopodiché dopo che si cuoce per circa 15 minuti né di più né di meno andiamo a frullare il nostro composto che ci aiuta sempre per avere ti faccio vedere che cosa combino allora che cosa ti inspira questa ricetta ma una in realtà anche un qualcosa per stupire gli ospiti gille perché in realtà non siamo abituati diciamo a utilizzare il latte di cocco nelle cotture soprattutto abbinate al pesce come dicevamo prima quindi può essere un modo per stupire i nostri commensali insomma i nostri amici preparando un pesce velocissimo ma gustoso con un gusto unico e poi ti dico le i ceci si sposano con il pesce anche i calamari grigliati per esempio cioè i nostri nostri ceci sono veramente un passepartout eccoci qua mi serve anche questo che mi aiuta a frullare ah ok noterai che i ceci sono molto carinosi perfetta una crema perfetta poi ci sono e qui abbiamo l'imbarazzo della scelta sì ok perché le possiamo lasciare i ceci o un vero proprio impasto di ceci denso ok possiamo allungare con il lato di cocco questo è ovviamente il piacere di ognuno di decidere quale consistenza vuole ma andiamo a impiattare sei pronto? vuoi impiattare? sì grazie Gile dai impiatti tu allora come ti piace la cremina spalmata mettiamolo qua sì facciamo un lettino per il nostro pesce a me piace il lettino personalmente ok ok vai a fare il nostro piattino mi tolgo anche il latte di cocco che si sta cuocendo qui allora ecco un letto meraviglioso poi i ceci si sposano che è una meraviglia e poi adagiamo un pezzo di baccalà proprio in superficie ok eccolo perfetto e poi se vogliamo possiamo mettere bellissimo qualche ramoscello in in coppa come si dice che ha un odore meraviglioso a casa ovviamente non si può sentire ma vi garantisco che è già un primo assaggio allora ragazzi questo è un piatto veloce velocissimo da fare diciamo di impatto di impatto molto gustoso e molto nutritivo così se volete sempre imparare nuove ricette con noi non solo abbiamo le ricette abbiamo anche un esperto sascia sorrentino colui che ha scritto mai dire di diete con me un nutrizionista di c'è veramente bravo veramente bravo e andiamo ascoltare da sascia qualche consiglio sulla nutrizione ragazzi sono super contenta perché c'è lui e non sulla sul copertino del libro sta in studio con me sascia sorrentino sascia bellissimo stare con te allora sascia mi spieghi allora noi abbiamo cominciato a lavorare insieme abbiamo cominciato a veramente trasformare le persone con la nutrizione e che è lo sport il trampolino in particolar modo e abbiamo parlato questo libro che si chiama morfologia no c'è proprio una sorta di piano alimentare morfologico allora io voglio parlare della mela ci può spiegare uno a casa come posso sapere se sono una mela beh allora il trucco qual è il trucco è cercare di capire dove accumulano principalmente le persone e questo ti aiuta a capire tanto di quello che è poi il loro stile di vita perché partendo appunto dal soggetto mela il soggetto mela tende ad accumulare soprattutto sul viso particolarmente questa zona qui e sulla zona addominale mentre invece braccia e gambe tendono a rimanere abbastanza sottili l'ormone in questo caso che entra in gioco è il cortisolo che è il famoso ormone dello stress quindi queste persone poi avranno tendenzialmente sempre determinati tipi di caratteristiche cioè tendono a dormire poco è dimostrato o poco o male è dimostrato che chi dorme poco o male cerca più zuccheri tendi a saltare i pasti perché magari vai a vai a mangiare tardi la sera poi ti svegli al mattino che non hai ancora digerito e spesso hai problemi di stomaco o intestino e quindi il trucco in questo caso qui è placare l'ormone dello stress e bisogna farlo nel modo in cui prevede la natura perché io quando sono stressato mangio gli zuccheri non mangio la bresaola giusto certo non c'è che la merluzzo diciamo al vapore esatto e quindi un buon trucco è quello di non far sentire le parole le persone a dieta cioè proprio mai dire dieta quindi dandogli il carboidrato alla sera loro non si sentono a dieta e sono molto più attente alle scelte che vanno a fare perché non hanno fame durante il giorno e riescono a riposare poi correttamente allora ragazzi avete sentito dalla sua bocca dottor Sasha Solentino che ha detto il carboidrato sano al momento giusto singolo carboidrato magari integrale aiuta a ridurre lo stress nell'organismo che ci aiuta a dormire meglio e aumenta il metabolismo però voi non cambiate canale perché noi continueranno a dare delle pillole di saggezza e di nutrizione durante queste ricette ma al momento andiamo torniamo alle ricette ti va bene andiamo a vedere le ricette come prosegue avete visto quanti amici ho in cucina sono una donna fortunata grazie a Gaudenzio grazie a te Gil grazie a Sasha che ci ha insegnato altre regole sulle cucine che sempre sono molto importanti e ci vediamo alla prossima ricetta insieme chissà che cosa scopriremo non si sa mai tornate qua ma siamo sicuri che non si dirà mai 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 dieta alla prossima grazie ragazzi